Ha un'importanza fondamentale per noi questa mostra oggi, perché segna la tappa di un percorso che ci siamo prefissi da tempo, che stiamo costruendo nei suoi elementi fondamentali ed è un percorso di conoscenza, i cui destinatari sono da un lato i valenzani stessi, i protagonisti di questa storia che raccontiamo e dall'altro i destinatari sono il mondo diciamo con molta ambizione, perché è un percorso di conoscenza fondamentale per capire il valore di quello che succede in questa città da cento anni, il valore di un elemento che è una delle connotazioni fondamentali della città e cioè l'oro e tutto quello che succede intorno a loro. Raccontare la storia degli individui che sono all'interno di una intelligenza collettiva che costituisce la produzione valenzana rende più chiaro e più comprensibile questo percorso. La sua opera è la sintesi dell'essere di Valenza.